Ciao a tutti, benvenuti a questo evento del Festival della Mente a cui partecipo con grande piacere, un po' perché è un bell'evento in sé il festival, un po' perché mi hanno permesso di parlare di qualcosa di assolutamente schifoso che tutti odiano ma che io amo dalla follia e mi tengo bene dal ciabattare. In più, la cosa importante è che sono ligure e quindi fare qualcosa di questo tipo in Liguria piuttosto che disperso da qualche parte in Italia per me è sempre un grande piacere. Quindi benvenuti alla mia conferenza, alla mia presentazione, io sono Emanuele Biggi, sono un naturalista, non biologo, attenzione naturalista ci tengo a precisarlo, c'è un po' di campanilismo fra le due università e mi occupo di tutti quegli animali che fanno schifo sostanzialmente a tutti eccetto a pochi che li capiscono, li conoscono e hanno cominciato ad apprezzare questi animali per quello che in realtà sono delle meraviglie della biodiversità e della complessità del mondo. Oggi parleremo di ragni, i ragni sono presenti in tutto il mondo, praticamente in nessuna parte del mondo, eccetto forse i poli, nessuno può essere a distanza di più di 3-4 metri da un ragno. Quindi probabilmente in questo momento tutti noi qui dentro siamo in compagnia di svariate decine di ragni che stanno sui soffitti, puliscono quelli del cinema, però vi assicuro che siamo in presenza di molti spettatori dalle otto zampe. Ma prima di iniziare la presentazione e tutte quelle che sono ho deciso di mettere una slide, di quelle slide che quando le si vedono si pensa, ok ora mi esce il cervello dalle orecchie, no tranquilli, è solo una singola slide ma per farvi capire quantomeno i gruppi principali di ragni che vivono nel mondo. Facciamo quindi un po' di chiarezza. I ragni sono divisi in due grandi gruppi, diciamo, ce n'è un terzo gruppo ancora più primitivo ma è di pochissime specie quindi non ne tengo conto in questo elenco. I migalomorfi che sono sostanzialmente le tarantolozze che vedete nei film, avete presente quelle pelose, grosse, che si tengono anche come animali da compagnia a volte. Già alcuni lo fanno, io l'ho fatto da ragazzi. Il nome è curioso perché migalomorfi deriva da un termine greco, vuol dire sostanzialmente che somigliano a un topo. Effettivamente quando si vede camminare questi ragnozzi pelosi per terra, sono un po' grossi, sembrano vagamente dei topolini. E si contrappongono, insomma, sono scollegati, sono lontanissimi parenti di un gruppo molto esteso che sono sostanzialmente i ragni che vediamo normalmente qui da noi, cioè gli araneomorfi, dalla forma di ragno, cioè sono quei ragni che particolarmente ricordano nella nostra mente lo stereotipo di ragno, nonché sono anche i ragni che fanno la classica ragnatela, almeno alcuni di loro. Giusto per informazione per darvi qualche numero, di migalomorfi sono sostanzialmente nel mondo sono presenti poche centinaia, forse un migliaio di specie in tutto, ancora magari non descritte, mentre di araneomorfi ci sono circa 38.000 specie descritte. Quindi il gruppo degli araneomorfi è sicuramente quello dominante nell'interno, diciamo, del gruppo dei ragni. Tutti questi animali, tutti i ragni fanno un qualcosa di unico dal punto di vista di quello che è il loro gruppo, cioè degli aracnidi, possono costruire, possono utilizzare della seta che loro stessi producono e viene prodotta da quelle che si chiamano le filiere, sono degli organi molto particolari posto alla fine dell'addome, sul loro sedere per capirci, che sono collegate delle ghiandole all'interno dell'addome in grado di produrre non uno, non due, diversi tipi di seta differenti. Gli araneomorfi, quelli che fanno anche l'aragnatela, arrivano a produrre sette tipi di sete diverse, con diverse proprietà. Quindi sono dei grandissimi e abili filatori di seta. Perché vi ho detto questo? Perché è molto importante fare un inciso a questo punto, perché cosa sarebbe successo se Spider-Man l'avesse creato un aracnologo? Io me lo sono sempre chiesto, allora ho provato a disegnare Spider-Man che vola fra i palazzi con le filiere al posto giusto e mi è uscita una roba un po' poco così, insomma poco presentabile. Quindi sono molto contento in realtà, anche se mi piacciono i ragni, che Stan Lee l'abbia creato e non un aracnologo qualsiasi, perché aveva un po' la mente commerciale, diciamo. Per i ragazzini probabilmente non sarebbe stato così di sex appeal uno Spider-Man che emetteva la seta dal deretano. Quindi va bene così, ma torniamo seri perché la storia evolutiva dei ragni è lunga e complessa e ho cercato di schiacciarvela in poche slide. La seta è iniziata praticamente con i primi ragni che hanno messo piede sulla Terra, gli aracni derivano da animali marini, quindi i primi ragni sulla Terra hanno iniziato praticamente da subito, 400 circa milioni di anni fa, a produrre i primi tipi di seta, all'inizio avevano solo due o tre tipi diversi di seta. Questi ragni assomigliavano nelle loro tane, non vi faccio vedere il ragno ma vi vedete la tana, ha questa tana qui, quindi una botola nel terreno coperta da un coperchio costruito dal ragno stesso con la sua seta e con attorno tanti fili che si irradiavano dall'apertura per poter avvertire l'avvicinamento di una preda. I primi utilizzi della seta non sono legati alla ragnatela, ma sono legati a un meccanismo di comunicazione potremmo dire che sfruttano i ragni. Comunicazione in tutti e due i sensi, una il ragno lasciava in giro quando andava in giro la seta come un marcatore per tornare velocemente alla sua tana sentendo le tracce chimiche che aveva lasciato e due per trovare le prede che, per sentire le prede che passavano sopra il terreno e la comunicazione e le vibrazioni venivano trasmesse attraverso i fili di seta fino alle zampe del ragno appoggiate dentro la tana ad altri fili di seta. Quindi una specie di burattinaio al contrario che aspettava che passasse la sua preda per uscire fuori. Questo è stato il primo utilizzo, se vogliamo possiamo dire aggressivo, legato alla caccia che i ragni hanno fatto della loro seta e data a circa 340 milioni di anni fa. Poi lo utilizzano anche gli stessi tarantolozzi che vi dicevo prima, migalomorfi in generale e molti altri ragni utilizzano la seta per foderare, per tappezzare casa. Si sa, lo fanno un po' perché si devono isolare dall'esterno contro parassiti, quindi acari, zecche, qualsiasi altra cosa, ma anche perché la seta porta con sé proprietà antisettiche, antibatteriche, antimicotiche, quindi è una tappezzeria con proprietà farmacologiche importanti per il ragno. Quindi il ragno in questo modo sopravvive a batteri e altre malattie che potrebbero attaccarlo grazie alla sua tappezzeria di casa. Ma questi sono tutti utilizzi abbastanza, se vogliamo, limitati e legati appunto alle prime forme di vita con la forma ragnesca. Esistono ancora oggi perché ci sono ragni che ancora oggi portano quel tipo di attività, quel tipo di utilizzo delle sete. I ragni però cosa hanno fatto? Con l'avanzata dei ragni nel mondo c'è stata anche un'avanzata successiva e molto importante, quella degli insetti. Gli insetti hanno cominciato anche loro a camminare sulla terra, a calcare la terra asciutta, le terre emerse, ma non solo, a un certo punto gli insetti hanno preso il volo. E questo è stato molto importante perché ha aperto, per alcuni ragni, nuove nicchie per andare a cercare cibo altrove. I primi ragni che hanno tentato di andare verso il cielo sono stati degli altri migalomorfi, cioè l'attipus. Questa foto qua, voi la state guardando da ormai sette secondi e dire cosa cavolo ci sta facendo vedere. In realtà quello che vedete qua è uno spaccato di un dosso a bordo di una strada, con del muschio, delle edere, eccetera eccetera. Questo qua sotto che spunta è un ramo, una radice di un albero che spunta perché è caduta un po' di terra. Questo qua è la tela trappola di un ragno, si chiama attipus. Questa ragnatela l'ho fotografata a Busalla, quindi non sono andato ai tropici per fotografarla, ma vive anche qui da noi, vive anche nelle alture qua dietro Sarzana per capirci. Questa è una seta poi sporcata dal materiale circostante per renderla più invisibile e il ragno la usa come un tubo attraverso il quale lui può avvertire il passaggio di prede che passano sopra e da dentro le puoi prendere, impalare e portare dentro. Ok, questa è la sua tecnica di caccia, ma la cosa interessante, Francesco il tuo posto è laggiù, grazie. Scusate, Francesco Tomasinelli, ho voluto fare questa scena perché ci sarà qualche fotografia sua anche oggi, quindi. Allora, la seta di questi ragni è stata la prima a portare i ragni verso l'aria, cioè a portarli dal buco nel terreno all'esterno. E il cammino è stato lungo, poi milioni di anni sono passati, però alla fine circa 240 milioni di anni fa i primi ragni hanno costruito, i primi ragni costruttori di ragnatela sono venuti fuori, si sono evoluti, hanno cominciato a costruire quella che è la classica ragnatela, la ragnatrappola come la chiamo io ogni tanto. Questa che vedete è una foto un po' così, un po' fighetta, con le luci, con le ghioccioline di rugiada, queste cose qua, ovviamente normalmente non si presenta così ma doveva fare la foto di apertura un po' suggestiva. In realtà la ragnatela è una trappola mortale per molte specie di cui si nutrono i ragni e la forma classica, quella che tutti voi avevate in mente stamattina quando siete venuti qua pensando di sentire parlare di ragnatela era questa sostanzialmente, la classica ragnatela orbicolare, cioè a forma tonda, costruita da tantissimi ragni diversi, all'incirca 11.000-12.000 specie fanno la ragnatela e molti di queste fanno questo tipo di ragnatela. È una trappola nell'aria e servita per catturare i primi insetti volatori che si sono quindi cominciati a diffondere sulle terre emerse e lo fanno bene, sia che si tratti di una cavalletta, in salto o che sia un seto in volo, la ragnatela è in grado con i suoi fili appiccicosi di seta appiccicosa particolari fatti apposta di catturare tantissime prede differenti. Il ragno poi una volta che sente e avverte la presenza della preda sulla ragnatela si avvicina, impacchetta ancora più di seta la sua preda e alla fine la morde e infligge il morso velenoso. Questa è la sua tecnica di caccia classica. Ci sono poi ragni molto grandi che hanno un po' avuto il primato, i primatisti della costruzione di questi abilissimi ingegneri riescono addirittura, queste cose che sono ragni nefila, sono dei ragni presenti un po' dappertutto nei tropici, in Africa, in Sud America, anche in Asia. Questa foto è stata fotografata per esempio in Madagascar qualche mese fa. Sono ragni che avevano fino a poco tempo fa il primato di grandi costruzioni di ragnatele. Questa ragnatele può raggiungere svariate decine di centimetri, arriva al metro, al metro e mezzo. Ma dal 2010 il primato le è stato tolto perché è stato descritto sempre in Madagascar un altro ragno che è questo, a cui è stato dato il nome di Darwin, Cerostris Darwini, il ragno di Darwin, che fa qualcosa di assolutamente incredibile. Riesce a costruire delle ragnatele di 20 metri di estensione, la ragnatele in sé è di circa due metri e mezzo, e le tende fino a 20 metri di estensione, con questi tensori che si possono scorgere qui, al di sopra di torrenti impetuosi, cascate, laghi, in posti dove altri ragni non sarebbero in grado di andare a pescare nell'aria, come fanno loro. E in questo modo si è riuscito a scavare una sua nicchia evolutiva per andare a cacciare dove altri ragni non potessero farlo. Poi se volete vi spiego meglio come si costruisce una ragnatela, ma sostanzialmente la versione breve è che lui lascia andare il primo filo di seta, la seta molto importante, la prima di costruzione della tela, è una seta che viene lasciata al vento. Il vento trasporta la brezza, tra l'altro quella che c'è sul torrente, l'aria che è data dal movimento dell'acqua anche, quindi non c'è bisogno che ci sia un proprio vento, porta la seta nell'aria e la fa attaccare su un cespuglio dall'altra parte del torrente o su una roccia a metà torrente, può anche succedere. Su questo primo tensore lui poi lo andrà a rinforzare con vari altri passaggi, facendo un po' la spola, come se fosse una carrucola, e pian pianino rinforza questo cavo. Da lì poi costruirà un altro cavo verticale su cui poi andrà a fare la sua tela classica e rinforzandola poi ulteriormente. Sono incredibili dal punto di vista evolutivo e riescono a cacciare veramente animali che altrimenti altri ragni non riuscirebbero mai a cacciare perché è un terreno di caccia completamente impossibile da calcare per altri animali. Ma non ci sono solo le ragnatele classiche, ci sono le ragnatele per esempio poste un po' in obliquo come queste. Ci sono ragnatele che, questa qua ha la stessa forma classica della ragnatela tonda, ma semplicemente vengono messe così. Questo per acchiappare gli insetti volatori appena usciti dall'acqua, appena spupati dalla larva acquatica, ancora incapaci di volare, che cadono, vorrebbero cadere sulle foglie delle vegetazioni riparie, invece cadono nella ragnatela di questi ragni, per esempio. Ma ci sono ragnatele ancora più complesse, per esempio questa che apparentemente è molto disordinata, ma che nesconde un disegno ingegneristico ben preciso. Questa è una ragnatela che ho fotografato in un orto dietro Portofino, quindi è un animale comunissimo ed è questo il ragno, quindi molto piccolo, si chiama linifia, è un ragnetto veramente di pochi millimetri di lunghezza, ma al suo disordine apparente iniziale corrisponde un disegno ben preciso. La parte sopra è un labirinto caotico di fili di seta che servono a far perdere la quota agli insetti volatori che ci vanno a infilare dentro, perché iniziano a sbattere qui e là. Non è appiccicosa, deve soltanto far perdere la quota di volo agli insetti che pian pianino iniziano a cadere, fino ad arrivare sulla tela lenzuolo su cui sosta il ragno. E qui c'è un'apertura, così il ragno può andare da sotto o da sopra a recuperare la sua preda, è molto ingegnosa se ci pensate, e viene costruita sostanzialmente in poche ore durante la notte. Andiamo avanti perché queste ragnatele hanno permesso ai ragni, così esili a volte, con queste gambe così sottili, di catturare prede anche di grandissime dimensioni. Questo per esempio è una archearanea, si chiama, è un piccolo ragnetto che si trova vicino alle case spesso, questa l'ho fotografata in un muro della casa di campagna dove vado io, è un ragnetto molto piccolo e questo invece è la sua preda, un ragno molto grande che è riuscito a catturare grazie proprio al fatto che la ragnatela immobilizza inizialmente la preda e quindi impedisce alla preda, all'insetto o al ragno in questo caso di difendersi. E questo è molto efficiente, guardate questo ragno, questa è una vedova nera africana che è riuscita a catturare addirittura un enorme e coriacissimo tra l'altro coleottero, lo morde riuscendo a mordere dalla zampa, stando molto distante, come dire ti mordo da qua così non rischio, non prendo calci in faccia sostanzialmente. Quindi la ragnatela finora è stato finora, finora quello che abbiamo visto finora, un organo, uno strumento statico che si può muovere nel vento ma sostanzialmente molto statico e il ragno sta lì e spera come un corallo fa sperando che gli passino delle particelle di cibo portate dalla corrente. Ci sono ragni che però hanno detto no va bene, non ne ho voglia. Oltretutto molte specie di insetti volatori tipo la zanzara, la sapete la bastarda zanzara cosa fa? La zanzara vola con le zampe anteriori in avanti se ci fate caso, quando vola vedete volare, ha sempre le zampine in avanti, ma non lo fa perché le piace volare così, lo fa perché se tocca una ragnatela di un ragno con solo le zampe anteriori non rimane appiccicata ma ha il tempo di andarsene via. Questo ragno che state vedendo in questa foto ha posto rimedio alle nostre zanzare. Cioè lui costruisce inizialmente questa ragnatela così, classica, un po', adesso l'ho fatta piatta questa foto ma è una classica ragnatela tondeggiante, solo che a un certo punto tende un filo di seta più o meno qua dietro e inizia a tenderla fortissimo, la tende fortissimo come una fionda, preparandosi a lanciare, a lasciare la presa da questo cavo e farsi sparare letteralmente come una fionda con tutta la ragnatela verso la preda che vola. In questo caso non c'è zanzara con le zampine in avanti che tenga e quindi viene catturata alla grande. Ma è molto efficiente, sapete veramente, basta avvicinarsi, queste foto è stata molto difficile da fare perché basta avvicinarsi appena e respirare appena verso di lui, lui sente il movimento dell'aria e dice preda e si fa scattare, poi pian pianino ritorna indietro. Allora è molto interessante, questa è una famiglia che si chiama Terisiodomatide, non hanno un nome comune in italiano, Teridiosomatide scusate. Andiamo avanti perché ci sono proprio quelli che non ne potevano più della ragnatela tonda e hanno detto vabbè però accidenti che spesa, ho il mutuo ogni volta che faccio la ragnatela, è dispendioso dal punto di vista energetico creare una ragnatela completa. Allora ci sono ragni che si sono evoluti per sfruttare al meglio un piccolo retino, un retino molto piccolo ma molto appiccicoso, fatto da una seta molto particolare che è addirittura lavorata da strutture particolari delle zampe dell'addome del ragno, che è questo ragno qua, si chiama Deinopis, è un ragno faccia di orco, o ragno che lancia il retino in inglese, ho la traduzione letterale. Questo ragno si mette appollaiato, appeso con le sue seta a un rametto, sempre in corrispondenza o di un tronco o di una foglia o del terreno. E cosa fa? Aspetta, vede molto bene, ha degli occhi molto capaci di vedere al buio, in più i fili che vengono attaccati al terreno sentono eventualmente vibrazioni, il passaggio di un insetto e nel momento in cui un insetto passa al di sotto della sua rete lui fa scattare la sua trappola con le zampe e immobilizza l'insetto per mangiarselo. In questo modo non solo ha bloccato l'insetto ma ha evitato di dover costruire tutta una struttura enorme per ottenere poi quella piccola preda di cui si è nutrito, quindi evita di spendere molte energie nella costruzione della ragnatela. Andiamo avanti perché c'è un problema. Allora voi pensate, siamo vissuti con film di ragni minacciosi, Signore degli Anelli, Shelob e altri che attendono, sono il male che attende nella ragnatela il passaggio della preda, in certi casi uno sventurato avventuriero e un ragno gigante. In realtà io ho sempre un po' visto il ragno come un nevroticissimo animale che attende sulla sua tela esposto agli eventi, esposto al meteo, al vento, alla pioggia, esposto ad altri predatori più grandi che possono mangiarselo, ma fa tutto questo solo per sopravvivere. In realtà secondo me la vita del ragno fa abbastanza schifo da questo punto di vista, soprattutto i ragni della tela, perché sono continuamente esposti a delle problematiche che gli potrebbero fare morire letteralmente. Quindi cito brevemente solo alcune delle strutture che i ragni utilizzano per aumentare l'efficacia delle loro ragnatele o comunque evitare di avere problemi quando vivono nelle loro ragnatele. Allora prima di tutto il ragno ergiope, questo ragno qua è il ragno vespa, lo si vede anche nei nostri prati, che è innocuo, è giallo e nero ma è innocuo, non vi preoccupate. Lui costruisce, in tutto il mondo sono presenti come ragni, questa ragnatela, sulla ragnatela costruisce questa specie di seta, questo disegno a zigzag che viene chiamato dagli specialisti stabilimentum o firma. La firma è molto importante per gli ergiope e però è anche uno dei grandi dilemmi dell'arcnologia. Non si sa ancora del tutto perché la faccia. Ci sono però molte spiegazioni molto interessanti. Una, la prima, è che lui costruisca la firma o stabilimentum per farsi vedere dagli uccelli, per dire no, per favore, vola un po' più alto che mi vai a sbattere nella ragnatele e poi mi tocca ricostruirla un'altra volta. E questa teoria è in parte confermata da una ricerca che è stata fatta sull'isola di Guam dove hanno introdotto un serpente che non c'era prima, il quale si è mangiato la gran parte degli uccelli presenti sull'isola, perché su un'isola si fa presto alla fine se c'è un predatore che non ha minacce, si è mangiato gran parte degli uccelli e questo era già un problema e cosa è successo? Che gli uccelli hanno cominciato a sbattere sempre meno frequentemente sulle ragnatele perché ce n'era meno. Allora i ragni che di loro geneticamente facevano meno firme hanno cominciato a essere più abbondanti perché sopravvivevano di più, cioè i loro problemi erano in parte stati risolti e quindi questa è una spiegazione parziale almeno dell'uso dello stabilimento. Un altro utilizzo che si potrebbe fare, hanno provato a guardare con delle camere sensibili agli UV, cosa succedeva inondando di raggi UV la ragnatela e hanno visto che sostanzialmente agli occhi di un insetto, preda dei ragni, un insetto volatore, un impollinatore, una farfalla, un'ape, lo stabilimento riflette i raggi UV, quindi appare come un bellissimo fiore e questa ricerca è stata fatta soprattutto sui ragni argiope del Sud America e se voi vi immaginate di essere un'ape, questo visto ai raggi UV potrebbe risplendere alla stessa maniera in cui risplende per esempio una margherita bianca, un'orchidea, un fiore a cui noi potremmo recarci e quindi è un modo di attirare, dicono altri ricercatori le loro prede. Ci sono tantissime altre ricerche ma non voglio giustamente come vi ho detto prima farvi uscire il cervello dalle orecchie, quindi andiamo avanti perché poi c'è chi invece non fa lo stabilimentum, non ha modo di difendersi soprattutto dai predatori e allora ha sviluppato evolutivamente parlando si intende, delle spine per rendersi il più possibile disgustoso, un carciofo al volo, un uccello non lo prende volentieri comunque o comunque dovrebbe fare tutti dei meccanismi per rimuovere le spine che sono dispendiosi per il predatore, quindi evita se può questo tipo di ragni che sono rossi in questo caso o gialli, hanno tutti i colori perché stanno avvertendo il predatore guarda che io non sono molto appetibile, è un avvertimento. Ci sono poi ragni che invece hanno investito tutto nel non farsi vedere, cioè quando avvertono il movimento dell'aria attorno, un movimento che non è quello di una preda ma più grande, un uccello che passa, un pipistrello anche di notte, questo ragno attualmente voi vedete perfettamente che è un ragno ma se avverte il movimento fa così e diventa una specie di bruscolino di muschio attaccato alla ragnatella, una specie di pezzo di vegetale e quindi un uccello, un pipistrello non lo vedono più come una potenziale preda e lo lasciano andare. C'è chi però è molto timido e non se la rischia proprio, cioè dice no vabbè però va bene ok, però money man becco uno che invece ha proprio tanta fame e mi assaggia, allora durante il giorno, periodo in cui gli uccelli girano e cacciano più attivamente, ci sono dei ragni che smontano la loro tela o l'abbandonano e si mettono sui rami in tutto e per tutto simili a una spina o un ramo spezzato come questo cerostris sempre in Madagascar e quindi scompaiono nel loro ambiente, però sapete ogni tanto viene fame anche di giorno o comunque di sera uno di questi ragni, magari ci sono altre specie che non se la vogliono tanto rischiare di andare comunque sulla ragnatela, allora ci sono i timidoni, li chiamo io, che costruiscono la ragnatela, sono mimetici ma tant'è non se la rischiano di andare al centro della ragnatela neanche di notte e stanno attaccati a un rametto di fianco tenendo una zampina attaccata alla tela come fa un pescatore al bolentino quando sente se qualche pesce abbocca e cercano di aspettare che qualcosa, sperano che qualcosa passi per mangiarselo e poi ci sono i ragni che cercano in tutti i modi di non essere visti sulla loro ragnatela è un po' la storia di Maometto che va alla montagna, in questo caso il ragno resta al centro della sua ragnatela ma costruisce tutta una struttura fatta di muschili, cheni materiale che prende lui in giro, molto sottile e qui sono sicuro che voi facciate molta fatica a vedere il ragno vi assicuro che anche avvicinandosi così, io stesso molte volte volevo fare la foto al ragno e basta e non lo vedevo lì per lì, dovevo guardarlo meglio il ragno in questo caso è qui e in questo caso è, aspettate, è qui, ok ma ve lo faccio vedere meglio, è questo qua quindi già lui è mimetico ma non sarebbe mimetico senza quella struttura che lui si crea attorno sono i ragni ciclosa, si trovano anche qua da noi anche se fanno cose un pochino meno spettacolari di quelle che vi ho fatto vedere qui, un po' meno complesse e poi c'è il modo di proteggersi non solo dai predatori ma anche dal sole la mignata mediterranea, la nostra vedova nera mediterranea produce molte volte nei posti molto assolati una struttura, una specie di bivac una specie di tenda sospesa col materiale e apparentemente sembra proprio un filo d'erba in questo caso con un po' di materiale del terreno che è caduto magari da sopra in realtà tomburellando gentilmente sulla ragnatela si vede che esce fuori questo ragno un po' allertato dal mio tocco e questa era una giovane vedova nera italiana che ho fotografato sulle alture di Albenga per esempio non vi preoccupate, non fanno niente, sono timidissime prima di mordere ci pensano 20 milioni di volte quindi non è un pericolo per l'uomo quindi non vi preoccupate da questo punto di vista le domande so che arriveranno da questo punto di vista quindi me le sono tenute per dopo perché sono sicuro che mi farete qualche domanda sul ma se trovo, ma se faccio, ma in casa, ma al morso del ragnetto quindi me le sono tenute per dopo andiamo avanti perché c'è chi ha investito in questa cosa cioè nel costruire un enorme apparato per la caccia e per nascondersi per proteggersi dai problemi e sono sicuramente gli esempi migliori i rani sociali ci sono due grandi gruppi di rani sociali gli stegodifus dell'Africa, tendenzialmente africani e gli enelosimus che vediamo fra poco che sono tendenzialmente sudamericani questi rani vivono in gruppi e costruiscono delle enormi ragnatele in realtà non tonde, come vedete, ma sono a massi in formi di seta, foglie, materiale detriti vari la polvere che arriva col vento loro lasciano tutto sulla ragnatella che è molto appiccicosa e qualsiasi insetto che va a finirci contro rimane subito bloccato e viene poi aggredito da decine di ragnetti più piccoli che ne fanno chiaramente un pasto della giornata ma la cosa interessante è che hanno scoperto i ricercatori recentemente che questi ragni adorano la sporcizia nel senso che adorano lasciare le loro prede non mangiate o quasi finite sulla ragnatela perché l'odore delle prede in putrefazione attira altri insetti per esempio insetti come le mosche, i coleotteri, i necrofagi tutti quegli animali che sono attirati dall'odore di morte sostanzialmente e loro li sfruttano per poterli mangiare i primatisti della costruzione di ragnatele sociali sono sicuramente gli anelosimus del Sud America e questa è una ragnatela che era piuttosto grande sarà stata quasi due metri, un metro e mezzo almeno di estensione l'ho fotografata nel 2008 e questa ragnatela all'interno contiene centinaia probabilmente di piccoli ragni molto piccoli, rossi, tutti insieme vivono e questi ragni riescono a soggiogare guardate come sono esili alla fine non pensereste mai che possano riuscire a cacciare prede anche pericolose o di grandi dimensioni in realtà l'ho visto io stesso catturare quella che viene chiamata formica proiettile cioè questo animale, quell'insetto lì, è una formica ed ha la puntura più dolorosa conosciuta dall'uomo quindi è un veleno molto potente si potrebbe difendere altre volte ma il numero fa la forza e come un novello gulliver viene intrappolata nella ragnatela di questi ragni e questi lippuziani riescono ad averne ragione quindi in questo caso sono pochissime le specie di ragni sociali nel mondo ma quando ci sono sono veramente molto efficienti siamo arrivati a questo punto e ho parlato finora di ragnatela l'avevo un po' promesso dal titolo per cui ovviamente dovevo parlare di ragnatela però in realtà la ragnatela i ragni che producono la ragnatela sono una discreta minoranza in realtà delle 38.000 specie nel mondo che fanno seta e sono araneomorfi soltanto 11-12.000 sono effettivamente costruttori di ragnatela quindi sono molto meno di quello che si pensi e allora gli altri due terzi di ragnomorfi cosa fanno? sopravvivono senza produrre una ragnatela usano la seta in tanti altri modi diversi per esempio quando si è in una foresta e non si sa dove andare si può usare la seta per incollare varie foglie fra di loro e creare questo giaciglio per il giorno quando non si è in giro a cacciare perché questo ragno che era all'interno di quelle foglie che avete visto si chiama Megaloremius Leo è un ragnozzo grosso così, molto grosso non è una tarantola anche se assomiglia alle classiche tarantole dei film è un araneomorfo anche lui è chiamato Leo ovviamente perché ricorda un po' la criniera del leone la sua peluria molto estesa e lui va in giro a cacciare senza bisogno di utilizzare la ragnatela ma usa comunque la seta per impacchettare le sue prede e per crearsi il suo giaciglio notturno ci sono però dei problemi se vivi in un deserto dove non ci sono tronchi sotto cui infilarsi pietra sotto cui infilarsi in questo caso c'è solo la sabbia o foglie in questo caso questo ragno che vive nel deserto del Namib si chiama Carparacneauroflava mi spiace non c'è un nome comune italiano ragno ruota potremmo chiamarlo lui cosa fa? riesce a costruire un buco nella sabbia anche se la sabbia è secca e quindi cadrebbe non riuscirebbe a scavare più di tanto ma la sua seta gli viene in aiuto perché lui scava un po' da una palata come vedete qua e dopodiché fa un down giro di seta e rinforza il muro come un muretto a secco come un muro di rinforzo e poi va avanti scava ancora un po' vedi proprio che spruzza la sabbia fuori e pian pianino fa un buchetto il primo buco non è molto profondo lui ha tutta la necessità di andare sotto per non farsi vedere dei predatori più grandi e poi chiudere il buco quindi pian pianino quello che rimarrà poi al mattino quando arriva l'alba sarà qualche calpestio così delle zampine attorno alla tana e poi si intravede proprio appena appena la tana appena abbozzata con il vento mattutino del Namib le sabbie completamente cancelleranno ogni singola traccia di questo ragno oltretutto stando sotto la sabbia la temperatura è molto più costante all'esterno quindi lui rimane in un confortevole 25 gradi costanti circa e quindi si salva anche dal calore del sole c'è un altro ragno che è un po' vintage invece se vive sempre nel deserto del Namib e usa la seta diciamo con un aiuto usa degli strumenti è incredibile questo ragnetto che si chiama Ariadne fa qualcosa di veramente molto curioso cioè si chiama Seven Stone Spider il ragno delle sette pietre se voi calcolate il numero delle pietroline che ci sono lì attorno sono esattamente sette sassolini più o meno tutti delle stesse dimensioni questo non era particolarmente bravo ha sbagliato la misura ma è il geometra non è colpa sua e questo cosa succede? questi sassolini non sono messi lì per bellezza io pensavo prima volta che l'ho visto non lo conoscevo pensavo ma magari non so quando ci sono le piogge stagionali magari non piove mai in realtà in questi posti qua quindi cosa succede? lui attacca un filo di seta molto sottile a ogni sassolino e va giù è una botola come l'altro ragno botola che avete visto prima praticamente senza il coperchio ma quello che è incredibile è che i ricercatori hanno visto che usa solo granelli di quarzo e hanno scoperto che fra tutti i minerali presenti in quel posto il quarzo è quello che trasmette meglio le vibrazioni quindi usa i granelli di quarzo per amplificare le vibrazioni date da una preda che passa e quindi anche in questo caso esce e mangia magari la formica di passaggio o quello che gli capita ci sono poi altri utilizzi incredibili incredibili di quello che si può fare con la seta con quello che fanno la seta e i ragni senza dover costruire una ragnatela questo che vedete non è una mia pazzia cioè non vado in giro a fotografare cacche di uccello sulle foglie e così è in tutto e per tutto un ragno che imita un escremento di uccello questo che vedete qui è il ragno e quello che lui crea attorno è tutto quello che lui crea per aumentare l'effetto cacca spiaccicata dell'uccellino sulla foglia lui di per sé già ci assomiglia in più disponendo la sua seta attorno in quel modo e le prede mangiate lasciate lì imita proprio il bianconero delle cacchette degli uccelli se l'avete vista almeno una volta sapete com'è fatta e non vi sbagliereste un uccello vedrebbe questa cosa direbbe l'ho fatta ieri quella no andiamo via ma c'è di più i ricercatori hanno visto che lui riesce a usare questo mimetismo come camuffamento aggressivo si dice cioè utilizza la sua somiglianza ad un escremento per attirare le prede perché riesce a emettere anche un odore che gli insetti reputano simile a quello di un escremento quindi alcuni insetti coprofagi tipo le mosche per esempio o certe vespine vanno da lui pensando che sia un escremento di uccello anche non solo visivamente e quindi vengono accatturati da questo ragno che vive sulle foglie incredibile forse uno degli esempi più incredibili di utilizzo della seta senza necessariamente la costruzione di una ragnatela è quello di un ragno che vive qui da noi dovete scusarmi perché queste sono riprese che ho fatto col cellulare in un acquarietto improvvisato che mi serviva per fare delle fotografie perché altrimenti sarebbe molto difficile trovare questo ragno in natura quindi un ricercatore me ne ha prestato uno per un po' di tempo e ho fatto queste riprese però quello che fa il ragno palombaro è qualcosa di incredibile vive solo ed esclusivamente in Europa e in Italia è solo endemico dell'Europa è l'unico ragno al mondo che passa tutta la vita sott'acqua negli stagni e non può vivere fuori dall'acqua cioè respira l'area atmosferica è costretto a respirare ancora l'area atmosferica ma tutta la sua vita viene sott'acqua tutte le sue prede sono acquatiche e quando si muove fa questa cosa qua quella bolla che voi vedete qua l'ha creata lui ha costruito un tetto di seta messo in orizzontale così fra la vegetazione in questo caso fra la vegetazione e il vetro e sotto va a porre delle bolle d'aria che lui col suo addome peloso cattura con la tensione superficiale dall'esterno che rimangono intrappolate fra i peli e poi con le zampe le butta dentro all'inizio e poi chiaramente solo con l'affinità riesce a creare questa bolla questa campana sott'acqua ma ancora una volta c'è di più i ricercatori hanno scoperto uno ti potrebbe dire ma perché non va semplicemente su a respirare ma chi glielo fa fare di farsi questo sbattone pazzesco lo sbattone pazzesco è dovuto al fatto che questo ragno in questo modo riesce a respirare sott'acqua per lunghe ore senza esporsi ai pericoli ai predatori a uccelli pesci in più questa campana è una branchia fisica viene stata definita cioè l'ossigeno tende è più diciamo chimicamente portato adesso dicono delle imprecisioni dal punto di vista del lessico ma per farvi capire a dissolversi nell'aria piuttosto che nell'acqua quindi tende ad andare dall'acqua attorno verso la campana l'anidride carbonica un po' perché le piante la vogliono durante il giorno un po' perché tende a dissolversi molto bene nell'acqua fa il contrario quindi crea un continuo ricircolo d'aria all'interno della campana ovviamente se il ragno fosse nevrotico cominciasse a muoversi tantissimo dispendendo tante energie non riuscirebbe quella a bastargli però se sta fermo in attesa di una preda può stare veramente ore e forse giorni sotto la campana senza dover andare a respirare quindi è veramente incredibile unico al mondo vive solo da noi la seta poi viene utilizzata per tantissimi altri utilizzi per esempio uno di questi è nell'arco nell'ambito del corteggiamento perché sapete la femmina di ragno è una vera femmina cioè pretende tantissimo dal suo maschio allora il maschio il don Giovanni di Pisaura Mirabilis le foto sono di Francesco Tomasinelli che si era sbagliato di posto prima che l'avete visto è il mio compare di sventure facciamo tante cose insieme questo servizio l'ha fatto lui adesso ho messo solo due fotografie per farvi vedere quello che fa questo ragno allora il maschio viene spesso nei ragni può capitare che venga mangiato dalla femmina non succede sempre in realtà però può capitare perché la femmina non è fame è più voglia di maschio cioè così e allora praticamente cosa fa il maschio di questa specie si è evoluto per fare qualcosa che in qualche modo limiti le tendenze fameliche della femmina cioè porta un regalo alla femmina quella che si vede nella foto di sinistra non è il suo cibo la sua preda ma è proprio il pacchettino che lui ha preparato con una preda catturata che sta portando alla femmina la femmina se apprezzerà il pacchettino accetterà il maschio e si accoppierà con lui ma ricordatevi i maschi su maschi sempre quindi ci sono quei maschi bastardissimi che cosa fanno preparano un finto pacchetto fanno il pacco proprio cioè mettono delle foglie dei pezzi di terreno qualcosa dentro la seta perché non hanno trovato prede ma hanno trovato la femmina allora preparano un pacchettino il biglietto no non faccio lasciare stare il biglietto non lo faccio e iniziano a portare questa cosa e si accoppiano velocissimamente per il periodo che la femmina si accorga di quello che è successo altre volte è ancora peggio forse è ancora peggio il maschio frega il regalo appena nato dalla femmina e se lo porta via per andare a cercare un'altra femmina quindi quando vi lamentate sappiate che in natura è stato già inventato tutto donne andiamo avanti perché non è finita ci sono bambini in sala allora devo moderare il linguaggio no perché ora andiamo andando in un ambito un po' scabroso perché ci sono questi ragni pescatori giganti dell'amazzonia io ho messo questi titoli a seconda dell'età che avete ho famo strano qualche anno fa verdone 50 su motore di ragno come citazione più recente insomma cosa fanno questi ragni il maschio deve avvicinarsi anche qui deve far vedere alla femmina che sta arrivando che è un maschio della sua specie non mi mangiare ti prego e intanto tamburella fa si avvicina quando però si è avvicinato non se la rischia la lega cioè si potrebbe dire che la stupri ma in realtà non vi agitate è un codice è un cioè in realtà le piace insomma si fa legare così infatti gli arachnologi che sono secondo me un po' dei depravati l'hanno chiamato bridal bondage o bondage sicuramente quella arachnologa sapeva il fatto suo in queste cose quindi sostanzialmente cosa fa il ragno non beve bevo io lega la femmina si accoppia velocemente e poi scappa fortissimo prima che la femmina possa slegarsi in realtà lei a questa cosa piace è una selezione perché se la femmina è legata vuol dire è un ragno capace un maschio capace di legarmi quindi è un maschio in salute e quindi è tutto voluto in realtà negli schemi naturali è una cosa che lei si aspetta che succeda va in uno stato di torpore sostanzialmente la femmina e lascia fare tutto quello che vuole al maschio un maschio fortunato andiamo avanti perché andiamo alla riproduzione andiamo a quello che succede dopo l'accoppiamento che lo facciano canonicamente o che lo facciano strano le femmine di ragno tendenzialmente nella grande maggioranza dei casi fanno un ovisacco questo sempre che è quello che vedete un po' in questa fotografia è un esempio ed il ovisacco è creato da vari tipi di sete diverse all'interno c'è una seta fatta a bambaggia per tenere molto soffice per tenere molto soffici le uova proprio come una bambaggia per tenere le uova protette anche da colpi esterni eccetera all'esterno una seta molto più particolare molte volte resistente all'acqua antimicotica protettiva sotto vari punti di vista ma quello che succede dopo sostanzialmente non è più affare della femmina la femmina abbandonerà il cucun come viene chiamato ovisacco al suo destino i ragni all'interno si sviluppano in piccole piccole ragnette poi escono fanno un foro escono fuori e niente non è la madre non avrà più niente a che fare con loro in molte situazioni la maggior parte dei casi i ragnetti usciranno saranno per un po' tutti insieme come in questo caso sono dei piccoli di Araneus cioè un ragno dei nostri prati comunissimo ma ci sono altri animali che invece hanno delle cure parentali sono madri un po' più amorevoli diciamo e tendono a mantenere i loro ragni un po' più protetti quando sono ancora uova in questo caso questa è una eteropoda del Borneo e quello che si vede qua sotto è un ovissacco che lei protegge si sporta in giro lo porta a spasso e lo protegge dai pericoli quindi chi fa di più addirittura i ragni lupo portano anche loro a spasso il loro visacco attaccandoselo dietro alle filiere come vedete qua ma non solo al momento della nascita mentre l'eteropoda al momento della nascita si disinteressa dei piccoli di nuovo dovranno pensare al loro destino autonomamente in questo caso i ragni lupo questa è un'altra specie ancora che vive sulle nostre alpi anzi è endemica delle alpi marittime loro accolgono sul loro dorso i piccoli che fanno questa specie di parrucca o comunque sacchettino attorno non è anche sacchettino questo gruppo di piccoli questo groviglio di gambe e addomi sopra l'addome della madre e so già che in sala qualcuno ha avuto magari un po' di fastidio ha detto ma che schifo lo facciamo anche noi cosa vi lamentate lo facciamo anche noi sono quelle che si chiamano cure parentali sono cuccioli di ragno con la loro mamma non c'è niente di più tenero scherzi a parte queste sono cure parentali molto evolute e quindi i ragni dimostrano di avere una certa attenzione anche per i piccoli a volte tanto più che alcuni costruiscono proprio delle tele asilo nursery web come questo ragno pescatore e rimangono a proteggere i piccoli anche dopo che si sono allontanati questi sono i piccolini questa è la silhouette della madre che li fa da protezione e cerca di quanto meno di tenere a bada i piccoli predatori come piccole lucertole che dovessero salire sulla ragnatela poi i piccoli si disperderanno e faranno vita per i fatti loro alcune madri vanno oltre alcune madri addirittura non solo permettono ai loro piccoli di stare con loro per un certo periodo non solo gli permettono come succede in questo caso in questo caso del ragnolince che vedete qua di mangiare le prede che loro stesse catturano nella ragnatela o loro stesse attivamente ma una volta arrivata la vecchiaia i piccoli saranno già abbastanza grandi celli si lasciano morire si lasciano mangiare dai propri piccoli è una cosa che a noi potrà sembrare magari terribile turpe perché la nostra morale ci dice di non mangiare nostra nonna o nostra madre al capezzale ovviamente ma per i ragni è molto importante perché la madre dà l'ultima energia che lei può dare ai propri piccoli per sopravvivere in un ambiente che è totalmente felice è molto ostile è molto difficile e quindi dà quello spunto in più infatti tutti questi ragni che fanno delle cure parentali fanno un po' meno piccoli rispetto a quello che se ne disinteressano perché diciamo investono di più sulla qualità piuttosto che sulla quantità e poi visto che si parlava di ragni che mangiano ragni ho voluto a tutti i costi infilare la storia del mio ragno preferito in assoluto quindi cercherò di essere breve perché già rischio di sforare e con questo rischio ancora di sforare ancora di più per stasera voi cosa avete da fare? perché questo è il ragno è il porzia è un ragno salticide in tutto il mondo ci sono 5.000 specie di salticide quindi sono la famiglia più diffusa più ricca di specie nel mondo di ragni questo ragno qua è una citazione del Signore degli Anelli così li mangia tutti cioè si è specializzato a cacciare altri ragni cioè non mangia insetti non mangia grilli cavallette no mangia altri ragni cioè altri predatori è molto intelligente e l'ho messo perché dite ma cosa c'entra con la seta la ragnatela è vero questo ragno salta va in giro non fa la ragnatela o meglio la fa ma la usa molto raramente cosa succede come si muove bene lui usa le ragnatele degli altri si muove sulle ragnatele degli altri riesce a non farsi vedere sfruttando il meteo sfruttando le condizioni atmosferiche sfruttando le ore del giorno a seconda della specie di ragno riesce a sfruttare una serie di tecniche incredibili tanto che per la prima volta nella scienza i ricercatori hanno dato la possibilità che ci sia hanno pensato ma ha mica coscienza questo ragno è un dibattito aperto perché è veramente in grado di per esempio ricordarsi dov'è la preda e fare tutti dei movimenti di allontanamento che perdono di vista la preda è una cosa non da poco per un cervello così piccolo e quindi si riesce a memorizzare la posizione delle prede però alla fine si avvicina alla preda di soppiazza di solito da dietro perché non è scemo e salta in groppa e mangia e in questo caso un ragno di quelli sociali che abbiamo visto prima i stegodiffus africani quindi riesce a infilarsi anche in quelle enormi tele piccicose che vi ho fatto vedere prima una curiosità qua sotto c'è un altro ragnetto che è proprio il classico sciacallo cioè un altro ragnetto di un'altra specie che mangia le prede sulle altre tele e quindi in questo caso non era una preda era il ragno stesso della tela ma vabbè per lui è sempre cibo sono proprio sciacali quelli che vi fregano le patatine dal sacchetto è uguale e siamo arrivati più o meno siamo verso la fine di tutto quello che possono fare i ragni con la loro seta i ragni come gli insetti secondo me ci pattivano un po' e allora hanno detto ma perché non possiamo provare a volare anche noi e i ragni in effetti hanno imparato anche a fare quello molti ragni di piccoli di piccoli appena nati di una generazione e a volte come in questo caso anche alcuni adulti riescono a volare cioè riescono a emettere vi faccio vedere questo video si vedrà poco ve la indico io poi riescono appena sentono una brezza e iniziano si mettono così gli inglesi dicono tiptoeing si mettono sulla punta delle zampe e iniziano a tessere qua un filo si intravede verso la fine poi vi ho messo una foto che si vedrà meglio iniziano a emettere un filo di seta che trasporta come un aquilone come una mongolfiera infatti gli inglesi dicono ballooning diventa mongolfiera e il ragno in questo caso la brezza è finita non sono riuscito a filmarlo che si librava nell'aria però la cosa interessante è che questi ragni riescono in questo modo a volare alcune volte per pochi metri e rovinano sul cespuglio di fianco alle volte invece riescono addirittura a volare per centinaia di chilometri dopo la classica storica eruzione del vulcano Krakatoa fecero delle spedizioni abbastanza costanti nei mesi successivi per vedere cosa era successo e se la vita tornava in questo posto il primo abitante essere vivente trovato sull'isola di Krakatoa dove c'era il vulcano è stato un ragno probabilmente morto di fame perché non c'era nessun altro però lui era arrivato lì col vento portato con la sua seta con la sua seta volante quindi i ragni effettivamente possono anche riuscire a volare quando serve e proprio questi fili hanno dato vita al mito che poi mi introduce l'ultima parte gli ultimi slide che riguardano i ragni e l'uomo e il mito del fil della vierge cioè i fili della vergine maria che sono il fenomeno che i tedeschi e gli inglesi chiamano gossamer o gossamer che è quello che vedete in questa fotografia qua cioè durante più o meno ottobre novembre quando finisce ormai l'estate la stagione calda inizia l'inverno tanti piccoli ragnetti nati durante la stagione hanno bisogno di spostarsi per trovare i loro luoghi di svernamento e iniziano a fare tanti di questi fili per volare via per spostarsi talmente tanti sono decine centinaia migliaia volte di questi ragni che al mattino i campi appaiono tutti costellati di questi fili di seta di ragno costellati tutti ricoperti di rugiada e quindi si vede ancora di più l'effetto e si pensava la leggenda vuole che sia il velo di Maria assunta in cielo che cade per annunciare l'arrivo dell'inverno vabbè è una lunga storia è una lunga leggenda ma sostanzialmente sono i ragni che creano questo gossamer molto tipico molto caratteristico questa fotografia l'ho fatta nei dintorni di Vercelli a novembre di qualche anno fa e questo è uno spaccato di quello che si può vedere ragni quindi possono fare veramente qualsiasi cosa e hanno stimolato da sempre la nostra curiosità in realtà noi nel nostro occidente tendenzialmente abbiamo schifo o paura dei ragni perché non li conosciamo abbastanza io sostengo che sia prevalentemente legato alla scarsa conoscenza di questi animali tolto le fobie che sono un altro caso una cosa a parte chi ha fobia di una certa cosa è un'altra cosa quindi parlo proprio dell'effetto di repulsione che tutti hanno senza avere veramente paura o schifo però i ragni ci sono nella cultura ci sono nella cultura nostra diciamo occidentale diciamo di origine greca col mito di Aracne e Atena addirittura in questo caso denota una grande abilità nei ragni perché Aracne era talmente brava a filare e tessere da avere addirittura la meglio sulle capacità di tessitura di Atena stessa anzi era un po' sbruffona Aracne e dice in realtà le ho insegnato io ho insegnato io ad Atena a filare e tessere Atena si indispone fanno una gara insomma alla fine vince ci sono due miti diversi ce n'è uno di Ovidio e un altro comunque vince Aracne l'altra si indispettisce e gli distrugge tutto il laboratorio questa non può più filare Aracne non può più filare a questo punto si suicida ma Atena che è una dea iraconda ma anche dotata di pietà si impietosisce e trasforma Aracne appesa all'albero in un ragno destinato per sempre a filare la sua ragnatela e questo è un mito classico che tutti noi quantomeno a scuola ci hanno accennato ci hanno detto ma ci sono altri miti sempre molto positivi in realtà Nazca non si sa molto però è un altro mito famoso legato ai ragni un mito scusate un'altra forma di cultura legata al ragno i ragni delle strisce dei disegni di Nazca nel deserto del Peru e poi c'è Anansi che pochi conoscono è una divinità africana principalmente del Ghana e degli stati attorno che è molto positiva in realtà Anansi storicamente le prime origini sono di un dio creatore dell'universo che con la sua seta è l'ingegnere dell'universo quindi espande nel mondo la sua ragnatela e l'universo in realtà è una ragnatela sorretta dai fili si trova sulla ragnatela sorretta dai fili di Anansi ma è anche il dio del racconto perché riesce a tessere le storie del mondo per cui molte storie sono legate a questa divinità africana molto positiva che denota grandi doti di narratrice e di racconto in generale quindi c'è nella cultura i ragni sono presenti e non sono necessariamente negativi guardate questa immagine perché poi i ragni sono presenti ovviamente nella scienza la scienza li ha presi di mira non solo per determinare le varie specie ma anche per capire tantissime cose è fantastica allora queste sono ragnatele costruite da ragni drogati ok la cosa che mi fa più ridere di assoluto di queste immagini ce ne sono anche altre se le cercate su internet è che questa è la caffeina guardate come stava male il ragno io sono drogato di caffeina mi sono preoccupato quando l'ho vista la prima volta i ragni sono diversi da noi però la cosa ridicola è che la marijuana è tranquillo la fama così un po' tranquillo insomma la cosa buffa è che il ricercatore che ha fatto questa ricerca all'inizio perché ti metti a drogare i ragni no? perché è la prima domanda che mi viene in mente perché cavolo gli è venuto in mente di spolverare i ragni con delle sostanze tusspefacenti l'ha fatto perché un suo collega naturalista attenzione eh perché qua c'è proprio la gente flippata doveva lavorare sulla ragnatela doveva studiare le ragnatele e chiese a questo ricercatore se poteva riuscire a spostare la costruzione della ragnatela nei ragni del giardino un po' più tardi o un po' prima perché svegliarsi alle 2 del mattino perché i ragni tendono a costruire la ragnatela dalle 2 alle 5 del mattino e lui veniva un po' scomodo allora gli ha chiesto di trovare una droga che praticamente rallentasse o anticipasse la costruzione della tela in un orario più confacente alle sue necessità il mondo è cambiato molto da quel punto da allora a fine del 1800 no i primi anni del 1900 se non mi ricordo male però le ricerche sono state riprese poi intorno agli anni 2000 a fine degli anni 90 per capire se questi ragni potessero dare una diciamo fossero come controllo della presenza di sostanze di un certo tipo quindi si dava non so una spennellata di una cosa trovata in una valigia che ne so però sono tutti sistemi così un po' fine a se stessi in realtà però fa abbastanza ridere perché effettivamente guarda come si stortissimi anche i ragni ma c'è molta ricerca sono le ultime slide c'è molta ricerca dietro ai ragni ve l'ho un po' riassunte perché c'è tantissimo che viene fatto sui ragni stiamo ancora un po' abbiamo iniziato appena a scavare la superficie di quello che la seta dei ragni può fare la seta dei ragni è dieci volte più resistente dell'acciaio 5-10 volte a seconda dei tipi di acciaio in realtà 3-4 volte non solo più tenace cioè più resistente alla rottura prima di rompersi ci mette di più ma anche più elastica del Kevlar per esempio quindi è una sostanza totalmente biologica peraltro invece il Kevlar per esempio deriva dal petrolio i metalli hanno i loro limiti anche loro per cui c'è molta ricerca che viene fatta sulle fibre di seta un po' quelle naturali un po' cercare di ricreare in laboratorio delle fibre di seta che mimino le proprietà di quella del ragno ma c'è anche un interesse medico molto ampio ma tantissimo addirittura storicamente i pastori dei Carpazzi già nel 1500 utilizzavano la seta di Atipus che avete visto prima la aprivano e mettevano la parte interna sulle ferite e questa la proprietà innanzitutto antisettica interna alla ragnatela le fibre che vengono molto bene assorbite dal nostro fisico senza dare nessun tipo di rigetto e in più la presenza di vitamina K presente sulla ragnatela facevano in modo che effettivamente ci fosse un blando aiuto dal punto di vista medico della guarigione di queste ferite e da qui è nata tutta una sfera di ricerca scusate ve li leggo io perché sono un po' distanti però per la ricerca di fili di sottura sottilissimi autoassorbenti super efficienti perché molto morbidi quindi in realtà non creano quegli effetti di creazione dei cheloidi oppure vengono costruite già ora in ambito di ricerca non vengono ancora applicate praticamente ma funzionano dei fili di seta di ragno su cui vengono fatte crescere delle cellule nervose del sistema periferico e quindi aumenta molto di più la velocità di guarigione quando si sta guarendo da un trauma serio in questa stessa di lesi dei nervi periferici della mano per esempio nella ricostruzione degli arti è una cosa molto interessante molto importante addirittura nella ricostruzione ossea oppure addirittura nel costruire con il materiale della seta di ragno delle rotule o comunque delle parti di ginocchio che vengono accettate facilmente dal nostro corpo perché appunto la tela è un materiale totalmente biofilico cioè viene accettato facilmente dal nostro fisico senza grossi problemi e via così c'è addirittura in Olanda uno studio per creare e qui si va proprio nella parte bellica per creare non solo giubbotte antiproiettili più resistenti usando la seta di ragno vestiti eccetera eccetera ma addirittura questa Jalila e Saidi ha creato una pelle questa è pelle umane in laboratorio è cresciuta in cellule umane resistente perché ha mischiato questa pelle anche della seta di ragno monta da quella famosa capra che creava lo sapete non lo sapete hanno fatto in modo di modificare geneticamente una capra in modo che il suo latte contenesse la proteina della seta di ragno non è proprio efficientissimo però insomma stanno provando in tutti i modi per sintetizzare quanto più possibile la seta di ragno ci sono metodi più o meno strani però insomma questo è quanto questo è quello che succede nel mondo diciamo e poi ci sono sete incredibili dal punto di vista della nostra società per esempio con il sete di nefila il ragno che vi ho fatto vedere anche prima l'ex primatista della costruzione di ragnatela con questi fili dorati stupendi è stato creato e presentato nel 2012 da Simon Pierce e Nicolas Godley non mi ricordo mai il secondo nome questo vestito costituito da più di un milione hanno preso la tela da più di un milione di ragni nefila in Madagascar monti e liberati dove l'hanno presi quindi non l'hanno uccisi assolutamente hanno solo preso un filo di seta e poi liberato 82 persone ci hanno lavorato 4 anni di lavorazione è uno sfoggio di capacità e alla fine di design però fa capire quanto è bella la seta anche perché quello lì non è un vestito colorato tinto è il colore della seta di quel ragno è dorato naturale è impressionante ma viene anche sempre di più i fili o sete che assomigliano a quella di ragno e vengono utilizzate nell'applicazione di tutti i giorni una nota marca di scarpe ha prodotto delle scarpe che hanno già dei fili e sono biodegradabili cioè queste scarpe se buttate nell'ambiente si dissolveranno in molto meno tempo di quello che farebbe una fibra naturale come il cotone o addirittura vabbè non parliamo della plastica ovviamente e quindi la ricerca va avanti vabbè ho messo una screenshot della mia trasmissione perché mi era più comodo senza rubare foto in giro è stato costruito un violino la cui cassa armonica non è di legno ma è stato costruito da questo ragazzo italiano Luca Alessandrini ha vinto anche un premio internazionale a Londra con un polimero diciamo una sostanza costruita da buona parte di seta di ragno mista ad altre sostanze e quindi ha costruito questa nuova resina che risuona benissimo questi violini suonano tantissimo suonano benissimo tant'è vero che i Mastri Luteai di Cremona hanno proprio certificato la qualità di questo violino e a Londra l'hanno suonato loro sono andati dei Mastri Luteai a fare la presentazione a Londra quando lui ha vinto il premio e hanno fatto vedere come questo violino in realtà sia ha suonato lui non è io sono un ingegnere del design però mi ha suonato un po' il violino lì in studio quando l'ho conosciuto è impressionante suona veramente molto bene perché è appassionato di musica infine ultime tre slide i ragni ci levano le zanzare sono nostri amici i ragni sono brillanti non soltanto per colori ma anche per capacità mentali come abbiamo visto il grande Porzia ricordatevi Porzia il mio ragno preferito ma ci fanno anche ridere a volte se sappiamo osservarli più da vicino quindi i ragni sono qualcosa che appartiene a noi come disse una volta un bambino di cui non posso fare nome per la privacy un bambino dell'elementare in una sua grande sciaggezza tipica dei bambini dell'elementare alla fine un ragno è come il sole solo che è nero e giallo grazie di tutti Allora chi deve andare può andare chi ha delle domande ti vedo già con la domanda vai spara ma se un uccello prende il bastoncino per fare il bastoncino giusto cioè gli deve andare un po' così male quella giornata lì come ti chiami? Pietro ci chiede ma mi chiede ma se è un ragno quello che sembra un bastoncino gli uccelli cercano i bastoncini per fare il nido si può succedere gli può andare male in quel caso lì si trasformerebbe presto in cibo probabilmente però guarda non è del tutto vero non è del tutto detto perché se il ragno si muove a quel punto lì magari per l'effetto sorpresa nell'uccello di avere qualcosa di vivo nel becco anziché un rametto magari apre il becco e lo lascia andare quindi non è del tutto detto che non possa salvarsi prego ciao ho trovato moltissime affinità affinità quello che Emanuele ci raccontava dei ragni delle loro caratteristiche psicologiche e le stesse caratteristiche che si possono trovare poi negli esseri umani allora la domanda o la osservazione è questa ma la mente ragnesca cioè che si può trovare in un umano assorbe di più le come dire caratteristiche tra virgolette negative cioè quelle che tu magari dicevi è un predatore piuttosto è uno che mangia le spalle degli altri oppure quelle che sono anche le caratteristiche positive cioè lavora in gruppo elabora poi delle nuove strategie per per trovare delle nuove ragnatele insomma che cosa hai osservato tu mettendo in paragone un ragno con un uomo allora grazie per la domanda interessantissima perché di solito appunto mi trovo spesso a fare delle presentazioni in luoghi dove sia un po' tutti di un certo tipo naturalisti appassionati quindi è bellissimo avere questa domanda che invece ci porta alle materie umanistiche ovviamente è interessante allora i ragni hanno una mente innanzitutto molto semplice per cui parlando della mente del ragno sono abbastanza lineari abbastanza fissati nella genetica del loro comportamento quindi non decidono granché da quello che mi hai chiesto tu adesso questa è una premessa per dividere quella che è la mente di un ragno da quella che può essere la nostra mente che invece si è sviluppata per risolvere problemi molto complessi detto questo io cerco sempre di non dare troppa di non troppo morfizzare troppo gli animali che guardo che osservo che studio lo stesso Corrad Lorenz addirittura estremizzava questa cosa e in questo io non mi trovo molto d'accordo con Corrad Lorenz da un certo punto di vista dicendo che addirittura non bisognerebbe definire gli animali buffi cattivi tristi cioè non bisognerebbe additare una situazione un animale con terminologie di puramente umane perché la nostra chimica mentale il nostro cervello quello che come funzioniamo noi è molto diverso da come funzionano molti altri animali detto questo io trovo che invece sia carino ogni tanto dire che un animale il maschio non è un incapace quando corteggia male la femmina il porzio è un intelligentone l'altro è buffo perché ha il disegno della faccia che ride sull'addome quindi io trovo effettivamente nei ragni a volte degli elementi che mi ricordano la mente umana come dicevi giustamente tu c'è trovo dei parallelismi non li applico cioè non sostengo che un ragno sia cattivo o meno o più efficiente però sicuramente noi stessi siamo animali per cui quello che noi facciamo nel bene e nel male rispecchia un po' quello che è l'andamento del mondo come funziona la natura gli ecosistemi quindi le nostre decisioni che noi certe volte reputiamo puramente umane cioè al di fuori di quello che è la natura stessa ci togliamo fuori dalla natura noi no? sembriamo un po' degli osservatori esterni a quello che sono in realtà sono assolutamente attuali cioè il fatto che il ragno sia da una parte predatore per noi può essere avere una connotazione negativa cioè noi abbiamo paura dei predatori in quanto ex prede o prede attuali certe volte i leoni ci mangiano tutt'oggi di molti animali e però è anche affascinante perché noi abbiamo sempre trovato in quanto anche predatori noi stessi in altre situazioni affascinante quel tipo di aspetto per esempio la capacità della costruire delle ragnatele lo troviamo assolutamente fastidioso e disgustoso quando lo abbiamo sui muri di casa nostra e lo vogliamo togliere però troviamo affascinante la capacità di un così piccolo animale di costruire una così grande opera in ingegneria quindi sicuramente ci sono dei parallelismi si possono fare dei parallelismi fra la mente umana e le capacità e le capacità dei ragni non le chiamo proprio menti dei ragni perché appunto sono qualcosa di molto diverso da come siamo noi spero di avere almeno in parte risposto a quello che era la tua osservazione sicuramente a seconda delle culture per esempio abbiamo trovato nei ragni come grande gruppo in certe culture sono andati verso la cosa positiva in altre verso la componente negativa la nostra cultura occidentale che conosce molto poco i ragni perché per qualche motivo l'abbiamo sempre un po' screditati anche nella narrativa eccetera eccetera è andata più verso vederli come elementi negativi spesso nei film di Walt Disney il ragno è il solito cattivo per esempio quindi un po' quella cultura lì nelle culture dell'Indo Pacifico i ragni sono assolutamente presenti in tutte le forme di vita quotidiana e le persone li vedono come animali assolutamente normali innocui e non hanno nessuna paura di questi animali qualche altra domanda vai il microfono per piacere la svegli l'avevo vista laggiù perdonami volevo fare come quel ragno che ricicla il pacchetto farti due domande invece di una due al prezzo di una una è brevissima sono un disena la prima è facile la seconda è difficile la prima è come è possibile che chimicamente è possibile che quel ragno non rimanga lui stesso appiccicato non so se è una questione specie specifica piuttosto che un pochino più diversa fammi già la seconda così rispondo il polone finale la seconda si avvicina un po' invece a quella della signora un pochino più filosofica a proposito degli animali che ci piacciono e gli animali che non ci piacciono è un tema molto scottante l'animale buono l'animale cattivo cosa possiamo fare per a parte fare divulgazione come fate voi insomma per fortuna cosa possiamo fare per limitare il nostro andare dappertutto perché penso che noi abbiamo scavalcato gli habitat le nicchie di 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 forse non so tranne in fondo al mare o forse anche anche ecco esatto come come possiamo limitarci e insegnare a limitare in modo da poter abbassare il conflitto che abbiamo con gli animali fra virgolette cattivi certo certo allora innanzitutto la prima domanda è una cosa che non ho trattato oggi ma perché non volevo andare troppo nello specifico ma sicuramente ci sono due modi sostanzialmente che il ragno ha di non rimanere appiccicato alla sua ragnatela non tutti i fili della ragnatela sono appiccicosi e lui lo sa bene quindi cammina sui fili radiali e non cammina sui fili circolari i fili circolari sono quelli appiccicosi i fili radiali sono quelli strutturali della ragnatela e sono quelli su cui lui sostanzialmente cammina parlo del ragno classico in più i ragni soprattutto quelli appunto gli orbweather quelli che costruiscono la tela orbicolare hanno degli uncini delle specie di ganci e di solito la ragnatela è posizionata leggermente anche quella verticale è un pochino obliqua e loro di solito sostano nella parte pendente e sono appesi con questi ganci come se fossero tanti ganci da appendere i vestiti e su con questi loro scivolano e camminano sulla ragnatela senza rimanere appiccicati perché offrono poca superficie di adesione quindi anche se rimanessero attaccati alla loro ragnatela riuscirebbero a districarsi facilmente però non sono immuni alla loro ragnatela cioè se buttate un ragno forte così su una ragnatela di un altro ragno lui rimane appiccicato quindi non sono immuni invece parlando di quello che è la seconda domanda un po' più filosofica un po' più legata anche un po' alla morale o all'etica quello che possiamo noi come specie su questo pianeta innanzitutto c'è da dire una cosa hai accennato alla nostra visione degli animali più o meno brutti quello è totalmente culturale però in parte legato anche al modo che abbiamo noi di vedere la natura attraverso gli occhi di primati noi tendiamo a vedere carini gli animali con gli occhioni grandi che ci ricordano i nostri bambini quindi già quelli vincono su tutto ok se c'è in un concorso di fotografia la scimmietta vince facilmente anche su persone allenate a apprezzare la natura ok detto questo cosa possiamo fare innanzitutto c'è una scomodissima verità da portare avanti da dire si dice pochissimo si ha paura a dirlo perché sembra quasi di scomodare un tabù perché è legato a noi alla nostra stessa presenza su questo pianeta cioè siamo troppi quindi questo è un dato di fatto che vi piaccia o no cominciamo a essere troppi nel mondo perché sia sostenibile per le risorse naturali si dice poco questa cosa perché chi la dice ha paura certe volte di essere additato come non so avete presente cosa può succedere se un estremista un pazzo pensasse questa cosa inizia a ammazzare gente non è così in realtà ci sono modi per tornare a essere un pochino più sostenibili semplicemente per esempio aumentando la qualità sociale politica ed economica delle donne in molte parti del mondo per esempio molte donne che si emancipassero veramente non fossero più soggette a stupri o comunque chiaramente a una situazione sociale di seconda categoria rispetto all'uomo addirittura soggiogate dalle società maschili a quel punto lì inizierebbero a istruirsi ad avere una istruzione, un lavoro, ambizioni meno figli perché sarebbero tantitutto deciderebbero loro quanti farne e quando farne e poi chiaramente la vita di un certo tipo ti porta a dover avere meno necessità di prolificare per mandarli nei campi a zappare quindi ci sono situazioni nel mondo che potrebbero essere almeno in parte potrebbero andare a risolvere semplicemente coi diritti umani quindi senza andare a toccare assolutamente Hitler o estremisti di quel tipo anzi è ben altra cosa è quello che è la risoluzione di molti dei problemi ambientali e poi chiaramente possiamo fare attraverso le nostre scelte etiche e morali io non sono molto estremista per esempio ancora consumo carne anche se ho ridotto molto il consumo di carne per esempio è già un gradino perché la rimozione totale poi prevede altri siamo comunque tanti quindi se tutti anche diventassimo vegani va benissimo perché per la morale di chi non ha piacere a uccidere animali va benissimo per carità ma il problema resterebbe comunque perché la coltivazione delle piante da alimentazione umana resterebbe comunque tantissima perché siamo miliardi e vi consiglio un libro si chiama Il futuro della vita c'è anche in italiano l'ha tradotto codice l'edizione codice se non sbaglio se no io l'avevo letto in inglese si chiama The future of life di Edward O. Wilson lui è un entomologo è un entomologo un mirmecologo studia le formiche tutta la vita ma è anche una delle più grandi menti di questo secolo in questo libro non parla di formiche le accenna soltanto ma parla di quello che sta succedendo nell'uomo nelle popolazioni umane e di quelli che sono proprio questi problemi qua quindi prima di preoccuparci appunto di altre cose o dell'etica se sia giusto o no fare secondo me bisogna tenere sempre bene presente il grande disegno quello che comunque bisogna fare qualcosa per arginare la nostra presenza su questo pianeta ma vi ripeto ci sono modi totalmente legali ed etici per farlo cioè bisognerebbe soltanto che andassero bene alcune cose in molti stati del mondo in molti paesi emergenti come vengono chiamati grazie faccio rispondere un attimo prima alla signora che ha alzato la mano anche prima diciamo come a scuola prima esatto prendete la motosega due velocissime però una è un'indicazione due velocissime mi ha stupito molto e non sapevo che i ragni mangiasero gli altri quatturassero nella loro tela altri ragni ma soprattutto se non gettati come dicevi ragni che dovrebbero conoscere la struttura tanto è vero che ci sono degli altri ragni che vanno apposta studiano la situazione e si mangiano gli altri ragnetti e questa è una come può succedere questa cosa l'altra è io abito in campagna anche io ho una casa in campagna e tutti i ragni che fanno le tele quelli che non le fanno non vengono vengono a casa mia e sono dei grandi lavoratori allora io meno e mi scoccio a pulire allora io devo dire la verità se passa una lucertola se c'è una lucertola la prendo con un cencio però i ragni mi sento in colpa però li ammazzo e allora io vorrei un'indicazione su come fare potete accompagnare gentilmente la signora vorrei un'indicazione però mi sento in colpa su come fare la chiacchia l'ha fatta entrare scusate scherzo signora grazie allora prima cosa quella foto che avete visto all'inizio del ragno piccolo che mangiava ragno grande è una cosa un po' particolare e l'ho trovato che già faceva quello uscendo dalla mia cucina di casa fuori all'esterno della casa di campagna quella ragnatela non si vedeva niente lì in quella foto ma è una tela molto particolare lo fanno i terididi cioè tutta la famiglia delle vedovenere dei piccoli ragnetti che anche si nascondono sotto i nostri mobili ogni tanto è una tela che è al contrario di quell'altra che vi ho fatto vedere disordinata sopra con lenzuolo sotto è al contrario va per terra ha dei fili che vanno o sulle pareti di un tronco o per terra questi fili sono dei sensori quando qualcosa che cammina sul terreno si avvicina e tocca uno di questi fili allerta il ragno che è sopra che scende e lancia della tela appiccicosa con le zampe posteriori come fa Spider-Man però con la sapete no e blocca la preda e poi la morde e la tira su come faceva per mangiarsela poi la porta su quindi in quel caso era un ragno che vive su una ragnatela quello piccolino che ha predato un ragno terrestre o comunque un ragno che non costruisce ragnatela che quello che avete avuto appeso che faceva la preda è un ragno comunissimo che vive qua da noi che è la Zoropsis che lo trovate nelle case è un ragnozzo grosso così spesso si trova in inverno o in autunno tutti mi chiedono cos'è sto ragno trovato in casa la Zoropsis lasciala stare lasciala stare arriviamo al punto della ciabatta allora capisco non siamo tutti appassionati sono molto pragmatico in queste cose di certo non estinguiamo i nostri rani nostrani se ci abbattiamo qualche ragno per carità a livello di popolazione quello che possiamo fare però se però abbiamo cuore la loro vita e ci dispiace ammazzarli come faccio io io addirittura li prendo proprio in mano certe volte che li conosco so quali non mordono la maggior parte però insomma chi non può prenderli in mano ovviamente e vi sconsiglio di farlo perché alcuni sono dolorosi comunque anche se non pericolosi per l'uomo prendete se è sulla parete per esempio prendete un bicchiere un semplice bicchiere e fate così ve lo faccio vedere senza microfono bicchiere ragno cartolina e va bene questa non funziona che è piccola preso ragno giardino facilissimo giardino bravo quindi in realtà è semplice chiaramente se lo trovate nel sottoscopo battiscopa là sotto così non avete voglia di sbagliare capisco non sono qui a dirvi ammazzatele il meno possibile tanto più che quelli spesso sui muri si trovano i salticidi proprio parenti del porza sono dei piccoli ragnetti quando vi avvicinate saltano quelli sono proprio innocui cioè proprio che non mordono neanche se schiacciati capite proprio non fanno niente arrivo all'ultima cosa legata a questo che voglio togliervi un po' della paura dei ragni il ragnetto che morde che vi svegliate al mattino col bozzo non esiste chi vi morde è un insetto ematofago tendenzialmente quindi chi vi crea il bozzo pruriginoso è per forza un animale ematofago i ragni non sono ematofagi cioè non si nutrono del nostro sangue non gliene frega assolutamente niente di noi siamo degli elementi del territorio fastidiosi nel senso che gli rompiamo le tele per cui tutto quello che vuole fare un ragno è nascondersi andare via non avere a che fare con noi la vedova nera stessa è stata fatta una ricerca con l'elatrodectus mactans cioè la vedova nera americana una delle più pericolose dal punto di vista del morso al mondo hanno fatto delle dita finte di polistiro di spugna comunque di materiale morbido e hanno schiacciato il ragno senza ucciderlo per vedere quando mordeva praticamente il ragno morde quando proprio dice è finita nel 90% dei casi nel 90% mordeva un pochino prima ma doveva proprio averlo fra le dita e iniziare a schiacciare per cui scordatevi che nella stragrande maggioranza dei casi il ragno sia un pericolo reale per noi ok? chiaro è meglio non prenderli in mano vabbè è un po' per logica è come dire è meglio non attraversare la sarda senza guardare vabbè è ovvio no? ovviamente rispettiamo le regole prego esistono ragni che infollinano le piante anche per la caccia sì microfono grazie scusa qua funziona? sì sì quando mio nonno morto a 95 anni che abitava in campagna quando avevo il primo impatto che ho conosciuto i ragni e i rospi è chiaro che non ridisci e mi dice no non sai cosa mi dice lasciali stare che sono i tuoi migliori amici è vero è verissimo terzo un'altra cosa che non c'è niente con i ragni ma quando fate la trasmissione di Geo in Geo che mandate che cacciate quelle povere persone che vengono che portano un sacco che fate quei tavoli pieni di roba ma smettete la porca miseria e fateli durare un po' di più cioè il problema è che parto dall'ultima perché è quella che mi voglio togliere perché oggi sono da naturalista più che da non decidiamo né io né sveva ma decide il palinsesto il programma è fatto dagli spazi in studio dagli spazi in documentari ma non solo è fatto da tutti gli altri programmi del canale se noi sforiamo di un minuto dalla durata della nostra diretta voi non sapete che rottura di ma ragazzini in sala quindi è molto problematico a volte addirittura a me è capitato perché si era sforato precedentemente durante la trasmissione perché un altro spazio era durato troppo di dover mandare via per esempio uno dei medici di famiglia della rubrica di salute che tengo io mandarlo via dopo due minuti e mezzo di chiacchierata voi immaginatevi dover parlare di qualsiasi argomento medico in due minuti e mezzo cioè era veramente anzi mi dispiaceva per l'ospite quindi succede è una cosa che non dovrebbe succedere in più i tempi televisivi sono spesso molto compressi ed è una cosa che inizialmente quando ho iniziato a Gheo mi dava fastidio perché a me piace un po' approfondire a volte però mi ha insegnato una cosa un mio autore un biologo anche lui tra l'altro Marco Castellazzi appena arrivato a Gheo quando mi lamentavo ha durato poco così e mi diceva sì ma guarda noi abbiamo un ruolo che è quello di incuriosire perché la tv non può essere enciclopedica didascalica soprattutto oggi una volta poteva esserlo quando c'erano meno programmi meno canali ma oggi ha perso quel ruolo lì ha un ruolo più di intrattenimento e deve incuriosire per cui chi vuole poi approfondire quell'argomento noi gli diamo modo di farlo e può andare a cercarsi le informazioni altrove per approfondire questa è una cosa che vale questo la dico non tanto per gli spazi legati agli prodotti locali eccetera quanto più per gli spazi legati alla scienza spesso si rischia anzi quasi di semplificare banalizzando a volte in tv è una cosa che io odio profondamente dire termini non corretti per far presto queste cose qua non va bene però si cerca di siamo umani sbagliamo anche noi ma si cerca di eliminare il più possibile infatti questa cosa qua è una cosa che noi cerchiamo il meno possibile di fare chiaramente il calcio ogni tanto va dato no con tutto rispetto per i nostri ospiti che sono persone io ho avuto un ragazzo mi ricordo un ragazzo marchigiano tra l'altro post terremoto è venuto da noi abbiamo fatto uno spazio bellissimo con i tartufi ed era un ragazzo era un ragazzo giovanissimo io non sono particolarmente appassionato di prodotti locali però mi ha appassionato perché vedi veramente delle persone di una passione immensa in questo caso e questo ragazzo era un ragazzo giovanissimo ha perso tutto e insomma va bene c'era la signora laggiù che voleva fare una domanda una domanda banale ma volevo dire quando si parla di ragni nelle note che dicevi dalle nostre parti hai parlato della vedova nera la malmignatta anche a me sì è la stessa cosa vedova nera italiana è chiamata da noi malmignatta è un termine dialettale sostanzialmente ragno volterrano viene chiamato come ha detto perché prevalentemente in Toscana sì diciamo è stata descritta da Rossi nel 1790 circa da Volterra e per cui viene chiamato ragno volterrano ma è un caso in realtà è presente in tutta Italia c'è anche in Liguria io ho due o tre siti che conosco dove la posso trovare a botta sicura c'è una buona popolazione è un animale molto poco antropofilo quindi non è difficile l'unico posto dove l'ho trovato in corrispondenza dell'uomo cioè in corrispondenza di abitati umani è stato in Corsica in un campeggio però quindi eravamo noi in una pineta dove lei viveva e in realtà in tutti gli altri posti vive sulle alture in luoghi assolati dispersi non ama assolutamente l'uomo come invece fa la vedova nera americana che in molti posti è proprio è antropofila si trova anche sotto le case negli intercapedini non proprio in casa più difficile però prego ah arrivo arrivo anche su quello arrivo grazie volevo chiederti senza scomodare i pastori dei carpazzi i nostri nonni usavano le ragnatele per curare le ferite bravo non l'ho usata perché non ho trovato riferimenti no no confermo la mia nonna perfetto quando non c'erano antibiotici penicilline eccetera usavano la ragnatela per curare le ferite perfetto allora si è confermato la domanda vera invece è questa noi abbiamo il giardino ragnatele di tutti i tipi da un po' di tempo a questa parte alla cassetta postale fuori ci sono delle ragnatele a forma di imbuto sono delle è una famiglia di ragni che ha deciso di adottare ci sono ragniatele a forma di imbuto lo fanno due o tre diverse famiglie qui da noi se sono imbuti molto grandi in realtà fra i cespugli e fra le foglie di solito sono agelenidi e sono ragni che fanno una ragnatela lenzuolo loro stanno in un buco nel terreno o comunque alla base di una pianta e ha questo tubo che viene in fuori così con un lenzuolo su cui cadono gli insetti le esce fuori li preda e li porta dentro questo è uno quello lì che dice là invece secondo me è una segestria cioè sono ragni che vivono anche nei buchi dei muri si trovano spesso fanno questi imbutini aperti così con un po' di ragnatela attorno e hanno la stessa tecnica di caccia di altri ragni che fanno la seta attorno cioè quando sentono le vibrazioni delle sete ha messa attorno lungo il muro escono fuori predano e portano dentro sono tantissime specie diverse segestria florentina è un ragno molto grande cui ho avuto il piacere di essere emorsicato uno o due volte da ragazzino perché prendo tutto con le mani e vi posso dire che in quel caso il morso è doloroso localmente anche un cane quando morde doloroso localmente per dire fa male meccanicamente la zanna ma non ha di soldi in me non ha mai avuto nessun tipo di reazione allergica semplicemente viene un po' un po' un fetto e finisce lì quindi è un altro di quei ragni che fanno tanta scena magari quando li si vede adulti grossi ma non sono pericolosi i ragni possono impollinare sì lo fanno in maniera involontaria perché molti ragni vivono e cacciano sui fiori perché aspettano sui fiori l'arrivo dei però si spostano da un fioro all'altro quindi loro stessi involontariamente possono essere impollinatori sì sì ci sono non li ho fatti vedere qua perché non fanno seta non era specifico nella discussione dell'utilizzo della seta ma i ragni granchio quello che avete visto che cercava di volare il filmato quello ragno granchio spesso molti di quei ragni lì vivono sui fiori anche qua da noi ci sono quelli bianchi tomisus misumena sono vari generi si chiamano tomisidi la famiglia ragni granchio detti e loro spesso cacciano lo stesso ragno che sembrava uno scremento di uccello è un tomiside in quel caso lui attira gli insetti in quel modo altri ragni granchio li attirano essendo loro stessi colorati come il fiore su cui stanno possono anche cambiare un po' colore dal rosa al giallo al bianco lentamente però riescono a farlo e vanno sui fiori quindi anche i salticidi da giovani integrano la loro dietra col polline e vanno a mangiarsi anche i granuli di polline ma andando sul fiore si sporcano e portano anche lì il polline in giro quindi tantissimi di questi animali poi sono importanti per le culture umane molte culture biologiche con i ragni lasciati stare hanno visto che l'impatto di questi animali pensate che i ragni nel mondo mangiano dal uguale al doppio di quello che mangiamo noi come massa di carne quindi la loro presenza non è così invisibile in realtà la biomassa di cui loro si nutrono è molto importante se noi rimuovessimo i ragni avremo una biomassa di insetti che mangiano noi e le piante e le foreste molto più alta quindi sono veramente importanti per il benessere degli ecosistemi e quindi nostro di conseguenza ovviamente insomma animali anche noi viviamo negli ecosistemi del mondo the future of life sì il futuro della vita è stato tradotto il futuro della vita si chiama Wilson lui di cognome con la W prego ah ok tocca a me niente no due cose prima una cosa così curiosa il punto più alto a cui è stato trovato un ragno come attitudine perché abbiamo parlato di ragni sotto terra ragni sott'acqua allora c'è un ragno altra cosa un piccolo detto romagnolo che appunto giusto per incamerarne ti farà in comodo ragni guadagni ah certo ragni porta guadagni come ho fatto a non citarlo voglio dire una slide la meritavo lo conoscevo benissimo le mancanze del comunicatore e poi l'altra cosa siamo in tiguria pure voglio dire se avevi tipo un documentario un libro che diciamo così parlava di ragno comunque era legato a questo tema che potevi consigliare documentario film o libro insomma uno l'hai già detto ho tutti segnato ce li ho ok grazie mille innanzitutto la prima domanda era quella legata al ragno che sta più in alto è un ragno dell'Himalaya vive fino a mi pare 6-7 mila metri è un salticide si chiama mi ricordo il genere il nome della specie è super estes cioè quello che sta soprattutto ed è un piccolo salticide che è presente Franci aiutami in che documentario era presente te lo ricordi BBC National ok c'è un documentario di National dove si vede filmato questo piccolo ragnetto ma è grosso è veramente un salticide di quelli che saltano sui muri che vediamo anche qua potrà essere 8 mm di lunghezza se li è ed è molto particolare perché vive è stranissima questa cosa non ci sono animali lì sostanzi cioè non è che ci sia una produzione di insetti o altri quello che trova arriva coi 20 adiabatici quindi viene portato dai 20 durante la stagione estiva dalle quote più basse quindi lui ha un posto dove nessuno gli rompe le scatole e dove c'è il take away la consegna a casa il porta pizze che gli porta a mangiare quindi è un ragnolo molto particolare che mi piacerebbe anche vedere una volta nella vita mi piacciono gli estremi sono un metallaro per cui questa cosa mi interessa e poi dicevi e i film ok allora sicuramente come documentari vi consiglio le varie serie sono più di una della BBC che non riguardano solo i ragni ma ne parlano sicuramente Life in Cold Blood scusate Life in the Undergrowth cioè La vita nel sottobosco dove parlano anche di molti ragni e citano i ragni poi ci sono vari documentari specialistici però alcune volte sono un po' con quel approccio un po' all'americana the spider is here to wait for you and then we'll kill you ti ucciderà hanno un po' quell'atteggiamento che a me non piace invece BBC tende a avere un atteggiamento un po' più morigio cioè c'è il grande David Attenborough scusate mi devo inchinare che per cui poi c'è un altro documentario che è molto bello che sia Life gli ultimi Life che sono usciti c'è il Porzia in Planet Earth tra l'altro no in Planet Earth 2 The Hunt è il penultimo grazie c'è una serie che si chiama The Hunt la caccia e lì c'è il Porzia lo mostrano che fa tutta la sua caccia sui ragni sulla tela e si vede anche il ragno il ragno pavone australiano che fa la sua danza di corteggiamento davanti alla femmina quindi ne parlano bene cioè sono bellissime riprese incredibili e film vabbè c'è un film di serie Z che ti consiglio perché è divertente è una stupidata pazzesca a rack attack ma è serie Z proprio di quelli che vai a vedere guardi in tv in seconda serata però mi sono esaltato per una scena quella scena lì ma io sono un nerd pazzesco però mi sono esaltato perché ci sono questi saltici di giganti che è un po' il sogno incubo di tutti gli erarchnologi perché sono dei predatori veramente efficienti e che predano al volo i motociclisti che fanno motocross e lì è proprio ho avuto un momento di esaltazione mio personale un po' paura perché mio fratello fa motocross mio malgrado quindi però insomma è un film stupido ti avverto però vabbè è divertente come film quello che mi veniva in mente ora è questo come film sui ragni e poi libri ce ne sono tanti ce n'era uno che non mi ricordo che è proprio una specie di romanzo un racconto italiano adesso me lo faccio venire in mente poi ti dico che è la storia di questa donna che è la scrittrice che parla con la sua tegenaria di casa e fa un'amicizia e gli racconta la storia dei ragni cioè come vivono gli altri ragni è molto interessante non è la tela di Carlotta è un'altra roba simile vabbè non vorrei confondermi con un altro titolo e poi ci sono ragni invece spessi diciamo di più scientifici ce ne sono tantissimi ce n'è uno bellissimo di Beccaloni cercati Beccaloni Spiders lo trovi che è molto introduttivo poi c'è vabbè se uno vuole proprio approfondire c'è Biology of Spiders di Felix però quello è proprio un testo tecnico è proprio tecnico ti spiega come funziona il ragno in tutti i suoi aspetti hanno fatto un'edizione recente ma ce ne sono tantissimi uno che vi consiglio che non parla solo di ragni ma che è un po' stato anche uno dei libri che mi hanno ispirato nel senso che è un fotografo e specialista molto in gamba è il libro di Piotr polacco Piotr Naskreki sembra un scioglilingua ma il libro si chiama The Smaller Majority la maggiore minoranza ed è un libro dedicato un po' a tutti questi animali diciamo e poi vabbè ho promesso che non avrei fatto marchette oggi ma sta per uscire un mio libro con Francesco vi faremo sapere vi faremo sapere non si può dire va bene perché mi ha chiesto i libri a questo punto faccio pubblicità agli altri no il primo dicembre presentiamo a Genova Predatori del microcosmo che è un libro proprio dedicato a una celebrazione di molti ragni e anche di altri animali di questo ambiente di questo mondo sì primo dicembre al museo di storia naturale è vero faccio comunicato stampa allora proprio primo dicembre non so che ora in realtà ancora al museo di storia naturale di Genova G. Doria saremo a presentare il libro poi vabbè è in prevendita ora vabbè basta basta mi piace fare le marchette abbiamo levato un grande dal buo dai dai ciao Gino la tarantina la bellissima perché non si prestava perché è una storia allora poi vi lascio andare perché è veramente si è fatta tarda la quella che crea i sintomi del tarantolato ok la sintomatologia delle convulsioni così è la malmignatta ok la tarantola però è grossa e visibile la malmignatta è molto timida e quindi non si fa vedere la tarantola è un ragnozzo molto grosso vive nel Salento con la malmignatta nello stesso ambiente e chi veniva morsicato durante la fienagione nel Salento si prendevano le balle di fieno sotto braccio sul collo e veniva intanto il ragno si sentiva schiacciare la malmignatta e mordeva e quindi si imputava però il morso a questi grossi ragni che erano nei campi vicini ai campi che era invece la tarantola la nostra tarantola che non c'entra niente è quei tarantolozzi dei film che vi ho fatto vedere prima che è un ragno lupo in realtà quelli che vanno i piccoli sopra il dorso quindi no la tarantola in realtà è un animale che può mordere il suo morso in quanto ha delle zanne molto grosse può essere meccanicamente localmente doloroso ma si ferma lì non è pericolosa per l'uomo è un animale molto pacifico l'ho preso in mano tantissime volte se il ragno si fa camminare sulla mano e non lo si prende non ci vede come un pericolo e lei non fa assolutamente niente alcune volte era un in realtà ho letto recentemente che era un pretesto per nascondere altre cose quella del tarantolismo cioè veniva utilizzato per nascondere l'utilizzo di sostanze queste cose vabbè una lunga storia ho un grande rispetto per i ragni perché se li spettacolo un po' la ragnazzera gli chiedo pure scusa però odio le zanzare anche perché mi mordono le schiacce senza pietà con le zanzare è una battaglia uno a uno è data tanto tempo dall'alba dei tempi visto che hai detto che ci sono ragni che invece si predano le zanzare non si può allevare non c'è non state studiate ma grande il progetto Life Ragni perfetto grande lo sposo totalmente sì certo quando volete guarda vi spiego tutto no scherzo basta lasciare tranquilli quelli che abbiamo intorno e loro fanno già un grosso lavoro importante grazie a tutti ancora vi lascio liberi grazie